Oggi, 21 giugno, è il primo giorno d'estate, una giornata meravigliosa, calda, piena di sole e tanta speranza. Chi deciderà che oggi per molti nel mondo sarà arrivato il momento di morire? Chi sarà costretto a prendere quel treno che chiamano il treno della morte, l'ultimo viaggio, quando una giornata così bella ti invita a vivere, a sperare, a godere, a sognare? Ecco, questa è la domanda delle domande. Chi decide? Indubbiamente non è il creatore, colui che c'è padre, colui che ci dà la vita dell'essere interiore, perché dovrebbe fare discriminazione fra me e mio fratello, fra me e l'amico, fra me e gli altri. Perché? Eppure c'è chi si comporta meglio di me o peggio. Chi decide? Soltanto, unicamente un computer che gelidamente sceglie tra le varie persone che sono qua sul mondo, chi oggi, e sono a migliaia, dovranno morire. Morire.